ciao sono G è da due mesi che seguo il corso di hard python con hank e mi sento molto più intelligente benvenuti in questa nuova lezione di hard python benvenuti benvenuti indeed grazie mille G per questa intro straordinaria grazie anche alla sub che c'è stata intanto banzi grazie per i tre mesi allora mi dispiace non la rifaremo più comunque è tipo il sesto tentativo allora oggi cari amici di youtube ma soprattutto cari amici del mondo tutto perché questo video qua magari gli alieni lo useranno per stabilire se gli umani sono abbastanza bravi oppure no ogni volta che fate qualcosa immaginate se un alieno mi guardasse riterrebbe la mia specie degna di contatto no per la maggior parte dei casi però oggi cerchiamo di ritenerci degni per gli alieni solo per gli alieni solo per gli alieni ora che cosa andiamo a fare oggi oggi sarà una lezione particolare le ultime volte sono stato ho cercato di alleggerire con il risultato di appesantire quindi oggi sarà la lezione più leggera che abbia mai fatto tradotto probabilmente la più pesante oggi facciamo un grande passo indietro e rivediamo bonci grazie per 17 rivediamo un po tutto quello che abbiamo fatto molto rapidamente ma lo vediamo dal punto di vista della memoria questo i'm not joking è una cosa molto importante e anche per chi programma da anni può essere una sorta di rivelazione ok perché come vedete g assolutamente in grado di programmare anzi è stata super bravissima fare il compito di questa settimana e dopo lo vedremo ma a mio modesto parere un programmatore è tale se e solo se è in grado di comprendere cosa succede al suo codice quando viene interpretato dalla macchina a livello fine a livello di memoria ok quindi oggi andremo a dare una profondità ed è per questo che l'episodio si chiama deep hard python andremo a vedere in profondità come viene interpretato il codice parleremo di stack parleremo di ip e parleremo di puntatori deve andare in bagno no può condividere lo schermo in 180 e 60 fps ma stai stremando in qualità super chifo si sto stremando in 480 grazie prego adesso riusciamo a leggere questo 680 no nel 1920 volevo dire dai 110 80 1080 1080 1080p 60 fps allora e perché è importante veramente questa è una cosa seria e riguarda sia l'episodio di oggi che l'episodio della prossima volta dove parleremo di oggetti e classi e poi ancora dopo di ereditarietà andremo ad affrontare dei temi teorici molto importanti che possono migliorare la vostra qualità di programmatore in tutti i linguaggi di programmazione voglio fare anche un piccolo disclaimer io queste cose qui di python non le ho mai studiate su python ma lo studiate su java che è un altro linguaggio di programmazione ha delle altre caratteristiche e in particolare ha la caratteristica di girare su una cosa che si chiama java virtual machine che è una virtualizzazione di un computer sopra il vostro computer e quindi ha delle caratteristiche della memoria molto specifiche sue python ci assomiglia ok ci assomiglia molto ha delle differenze che non so se sono riuscito a trovare tutte se dirò delle imprecisioni perdonatelo me ma comunque il succo della questione le cose più importanti vederò sono quelle e sono preziose e le riscontreremo anche sul codice con gli esempi che ho preparato ok ora che ho over ipato il tema direi che possiamo procedere dopodiché dopo aver fatto questa cosa da memoria che in realtà durerà poco una mezz'oretta credo andremo a vedere il compito di g e poi anche l'ultima cosa che abbiamo fatto nella lezione dell'altra volta era pesante l'ho fatta io un po alla veloce perché avevo degli altri ospiti dopo chiedo umilmente scusa ma non è un problema perché tanti tanti esercizi che faremo da qui fino a quando finalmente arriveremo a trattare i dati di twitter saranno fatti così saranno delle api call ci saranno un po di request un po di cose così quindi non vi preoccupate ne facciamo un altro oggi uno che riguarda la creazione di un quiz musicale sul vostro terminale quindi una cosa interessante divertente e lo faremo insieme a g da capo io non ce la seguo ma non l'aiuto e invece i compiti a casa sono super facilissimi quindi questa settimana è agosto per tutti ok ho cambiato ho cambiato un po le cose va bene iniziamo quindi andiamo nell'unico file che c'è questa volta che non dovrete eseguire direttamente nel vostro terminale quindi sono nel file 1 memoria io sto seguendo te ma perfetto ma andremo a testarlo su questo sito web che c'è scritto qua dentro ma se volete usarlo adesso ve lo metto in chat per favore fallo anche tu non so come ma va bene basta che google ma non è la mia chat ce l'hai sempre aperta hai detto ma non su questo computer ma posso prenderlo dalla mia chat no 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 faccio il lavoro da questo computer puoi venire da questo computer e fare così l'ho fatto l'ho fatto e si chiama python tutor ok è un sito web veramente molto interessante perché è un sito web che come vedete vi permette ve lo zoom un pochettino vi permette di scrivere codice python faccio anche la chat un pochettino più piccola vi permette di scrivere un codice python e di vederlo interpretato all'interno della memoria ok quindi se voi qua dentro scrivete x uguale 5 e poi cliccate su visual scusate ho cliccato decisamente la cosa sbagliata eccomi cliccate su visualize execution metterò g di qua cliccate su visualize execution potrete vedere lo stato della memoria nel programma in questione ok quindi questa è la vostra riga di codici adesso andiamo a vedere tutte le cose pian pianino ok quindi iniziamo con un codice molto complesso che è questo qui stiamo eseguendo la versione 3.6 ma non cambia un granché ok quindi la chat si vabbè sposto proprio la chat scusami ma qua è un po' diverso dal solito ecco qua vi metto qua vicino a me o volete stare vicino a g no state vicino a me ok no in mezzo dai in mezzo così non si lamenta nessuno no non ci sta no non ci preoccupiamo allora abbiamo scritto questo semplice codice in python a uguale a 10 b uguale a 15 c uguale a più b g mi puoi dire che cosa succede a questo codice non so che sembra una domanda stupida cosa succede a questo codice 10 si salva in a il 15 si salva in b e in c si salva 25 esatto adesso per fare questo tu l'hai sempre dato per scontato senza sapere esattamente cosa succede lì dentro ok dovete sapere innanzitutto che i programmi python in particolare ha due zone di memoria definite separate che si chiamano stack che significa pila in italiano e questo è molto importante e ip non so se si chiami ip in python però diciamo è la zona degli oggetti io la chiamerò ip per comodità ok intanto non ip scritto h e ap ah ok ip esatto non c'è un programma che si chiama con qualcosa di hip hip loop hip loop mucchio in java ape si in realtà credo che tipo con sql qualcosa del genere no non lo so beh comunque la cosa che è fondamentale da capire come ha scritto qualcuno in chat bravo corn non è soltanto che sono due zone separate ma che sono fatte in modo fondamentalmente diverso perché c'è un tema importante di cui non abbiamo mai parlato che è ok ma tutta questa roba che scriviamo ha tante forme diverse cioè hip hop a contiene un intero ok e un intero per chi ha seguito la mia lezione sui computer richiede un certo numero di bit per essere rappresentato mentre invece un oggetto come ad esempio può essere che ne so una lista ok è molto più grosso perché può contenere una lista che può contenere una lista che può contenere un dizionario che può contenere una lista ha uno spazio indefinito a priori questo lascia intendere che c'è bisogno di un spazio di memoria più piccolo più preciso e uno più grande e libero e vasto ok in più lo spazio piccolino che appunto è lo stack ha bisogno di rendere le variabili fruibili per il programma che cosa significa che essendo lo stack una pila su questa pila noi andiamo a mettere le nostre variabili una sull'altra dal basso verso l'alto ok non so se qua la visualizzerà così ma è una pila quindi le cose si mettono in ordine dal basso verso l'alto ok quando succedono certe cose nel codice che andremo a vedere soltanto una porzione di quella pila è accessibile non tutta tipo i piatti bravissimi bravissimi come i piatti ma la cosa importante che dovete capire è che su questa pila non è messo tutto a caso ma ci sono delle zone riservate dove il programma può accedere oppure no e queste zone vengono dette in java spero che vada bene ma vengono dette vada bene anche per python frame ok sono frame di attivazione sono blocchi specifici della pila dove ci sono certe variabili e non altre considerate che con le dovute non è completamente vero sempre però come idea mentale molto importante da avere quando c'è un frame specifico sulla pila il programma può accedere solo alle variabili di quel frame e non a tutto il resto g questa è una domanda difficile quindi non ti preoccupare se non sai la risposta ti fa questa spiegazione di zone dove le variabili stanno e non ci puoi accedere o ci puoi accedere ti fa venire in mente un argomento che abbiamo già trattato non è tipo le formule le cose locali le cose non locali si abbiamo detto che si chiama non mi ricordo come si chiama si chiama scope lo scope delle variabili a un certo punto vi abbiamo detto guarda che se dichiari una variabile dentro una funzione da fuori non la puoi usare se la dichiari fuori puoi usarla dentro quando fa il passaggio di parametri gli passa delle cose non siamo stati molto chiari ok? su questa cosa qui il motivo è che adesso lo sarò adesso sarò chiaro finalmente su questo argomento che è molto importante e lo scope cioè la visibilità delle variabili ha tutto a che fare con come è fatto e come funziona lo stack e poi anche come funziona l'ip quindi lo so che sono stato un po' prolisso ma queste cose sono veramente molto importanti per fare un giga riassunto ci sono due aree di memoria lo stack e l'ip lo stack è una pila e alcune porzioni di questa pila sono riservate si possono usare solo un blocchettino un gruppettino e non tutta e lo stack ha dimensioni definite bloccate mentre invece l'ip ha dimensioni libere e l'ultima cosa che non vi ho detto è che le variabili nello stack possono puntare a delle zone di memoria nel lip e qui è dove gli adulti piangono ok ma sono confident di riuscire a spiegarvelo facciamo con calma ok ok perché sto facendo confusione con stack heap adesso che li vedi sarà più chiaro allora guarda qua qui stack heap lui li chiama frames e objects ok però fondamentalmente è la stessa cosa frames e objects questo è il nostro programma no tu il mouse però non lo vedi vero no lo vedo lo vedo non so perché si vede in qualità orrenda in questo momento stack heap sono due zone diverse certo ci sono i puntatori anche in python naturalmente si perché questo è un dettaglio tecnico implementativo fondamentale che adesso cerchiamo di sfiorare comunque questo è il tuo programma ok lo vedi male tu tanto male no vabbè è accessibile aspetta metto in pausa un po' di cose che ho di qua forse così è un po' meglio sarebbe bello allora lo stack scusate questo è il nostro programma le cose che hai detto tu sono giustissime ma per funzionare c'è bisogno di tutta quella roba che ti ho detto tranne l'eap che qui non c'è ancora perché usiamo variabili base ok ma look at this allora quando abbiamo eseguito la prima riga quindi freccia verde è la linea che è appena stata eseguita freccia rossa è la prossima linea ah ok appena eseguita verde si esatto cosa molto importante già qui è mascherato un principio fondamentale di cui non parliamo ma mentre il programma gira deve tenersi a mente ok dove è arrivato sembra una cosa stupida però come fa come fa a sapere dove è arrivato deve sempre tenersi a mente tenersi il segno esatto e quella cosa lì si chiama instruction tipo line non mi ricordo più però mi dà il secondo che mi prendo il notepad e mi prendo appunti di queste cose che non mi sto ricordando se no il mio cervello funziona così devo scrivere le cose non riesco a seguirti questa è una cosa teorica instruction pointer grazie mille non mi ricordavo più forse c'è un modo per generarle un link di visualizzazione solo mi sa di no intel lo chiamava program counter grazie mille vino chat lo so che questa cosa è un po' noiosa ma fidatevi che capirla vi fa non vi farà più sbagliare vi farà comunque fare degli errori ma non di concetto base è proprio importante questa roba qua macca grazie per i quattro buona domenica signori quindi questa riga rossa in realtà questa freccia rossa il programma se la tiene in memoria perché deve sapere dove deve andare in questo caso sembra ovvio no perché fa un due tre quattro cinque sei eccetera ma in un for ad esempio non è così in un for deve risaltare in su no ok ok com'è che si chiama il punto dove tiene il segno si chiama ha tanti nomi a seconda delle architetture diciamo chiamiamolo IP instruction pointer o anche si chiamava anche vabbè ma non è il program counter anche però vabbè diciamo instruction pointer è più chiaro che dice qual è l'istruzione prossima da essere eseguita ok ora in java piccolo excursus in java a seconda del tipo di variabile perché le variabili sono fortemente tipate queste sono ben definite se finiscono sullo stack o nel leap in python credo 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 che in realtà siano tutti oggetti ma per semplicità e infatti credo che anche questo dovrebbe stare nel leap per semplicità noi diciamo che i tipi base quindi int boolean string sono ospitati sui frame e invece tutti gli altri nel leap ma lo vediamo man mano sto facendo un po' di cose che man mano ti saranno più chiare le dico tante volte io ho bisogno di insegnarmi le cose sennò ho un cervello che comincia a fare viaggi mentali invece se scrivo mi concentro quindi allora vediamo vediamo che cosa è successo con la prima riga se io eseguo la prima riga quindi al momento il programma non ha fatto niente ah nella sua testa dice ok la prima riga che devo eseguire è la riga 1 esegue la riga 1 è successa già una cosa molto importante ok fra i frame quindi sullo stack si è creata una porzione di pila ok aspetta quindi se io dovesse disegnare una pila cioè se io dovesse disegnare uno stack è una pila e ogni pezzettino è una torta è una torta un'informazione è un frame no il frame è un gruppo di usa la metafora che vuoi puoi immaginarla come una torta ok c'è la zona tipo il pan di spagna più la crema può essere un frame però più di uno strato immagina anche come i blocchettini no ok più blocchettini sono un frame ok e ogni singolo blocco è un non lo so record che ne so è un valore sullo stack ok ok quindi in questo caso abbiamo creato un singolo blocchettino che fa parte di un frame che si chiama globale perché siamo nella zona globale non siamo dentro un metodo non siamo da nessun'altra parte e dentro questo frame è stato creato una lineetta in quella lineetta abbiamo messo il valore 10 e questo questo blocchettino immagina anche come dei cassetti se vuoi impilati uno sull'altro una giga cassettiera il nome di quel cassetto è A dal punto di vista implementativo è un po' più complicato di così ma noi lo chiamiamo A sappiamo che nel codice questo è importantissimo nel codice ogni volta che ci riferiamo ad A vogliamo accedere al cassettino questo qua ok questo fondamentale ogni volta che vogliamo che scriviamo A lui va lì e prende il contenuto ricordati che il computer fa solo cose stupide ne fa così tante velocemente che sembrano intelligenti ma sono sempre stupide ok il computer fa solo somme praticamente non è che il binario è così quindi qua siamo a un livello molto molto semplice e diventa complesso nella sua nella sua interezza quindi la cosa stupida che sta facendo qui è dire bene lì ci metto 10 e questo cassetto lo chiamo A ogni volta ogni volta che nel codice io mi riferisco ad A dovrò accedere a quel cassetto punto se A non c'è errore no non ho trovato A fuck you non c'è il cassetto A non c'è il cassetto A che ti succede? cassetto uguale frame? no il cassetto è la singola singoletta il cosino dentro la cassettiera il frame è una cassettiera e lo stack è la casa no perché sono tutte nello stesso posto però allora la cosa del frame non è non deve darti ansia cioè il frame è un gruppo di cassetti ok bene quindi ci siamo? andiamo avanti anzi fammi modificare il codice che mi è venuta in mente una cosa ok benissimo abbiamo eseguito A siamo qua facciamo la prossima facciamo la prossima riga che cosa ti aspetti che succeda? ecco importantissimo altro concetto importante il computer non è divertente non gli piace fare cose a caso quindi è consistente in quello che fa è ciò che differenzia un linguaggio naturale come l'italiano l'inglese il cinese da un linguaggio formale cioè ha stesso input corrisponde stesso output ok stavo sistemando una cosa nello stream scusami sì 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 ok quindi secondo te riga 2 che cosa succede? creiamo un nuovo frame con scritto dentro b uguale 15 sì ma non è il frame è solo il record il frame un nuovo record dentro il frame sì esatto dentro il frame corrente chiamiamoli record anche se mi sa che non è giustissimo e quando è che si cambia frame? eh quello lo vediamo dopo ok 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 però ora abbiamo soltanto il frame puoi immaginartela così guarda anziché pensare che siano zone diverse puoi immaginare che sia come la luce del teatro hai presente? tipo l'occhio di bue no? adesso il fuoco è quello lì e tu lavori solo su quel frame lì finché non succede qualcosa di speciale che ti dico dopo ok quello è il frame quindi dentro questo frame creiamo un nuovo record ok ok e infatti è proprio così creiamo un nuovo record un record lo chiamiamo ok sì spero che non sia una bestemmia i commenti di youtube saranno energici vabbè impiliamo tecnicamente un nuovo record qui li vedete crescere verso il basso per motivi di come è fatto però potete immaginarlo anche al contrario va benissimo nuovo record una nuova variabile sì sì va bene una variabile record abbiamo una nuova variabile nello stack e in particolare nel global frame e questo è 15 adesso secondo te nella prossima riga cosa succede? nella prossima riga si crea un altro record dove c'è scritto c uguale a 25 ah ok a nel senso uguale a si si uguale cioè c che contiene 25 sì 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 ok sì a sì e così ma hai già dato per scontato ti ricordo che il computer è stupido hai già dato per scontato una cosa a e b da dove li prende lui? ah da prima quindi scriverà 10 più 15 perché per lui non c'è a e b ci sono 10 e 15 sì qui viene fatto tutto insieme ma la serie di operazioni che fa è ok devo assegnare devo computare a più b e poi metterlo dentro c ok ma a che cos'è? lui letteralmente scannerizza qua dentro cerca a e ne prende il valore e lo tiene lì poi scannerizza b ne prende il valore e lo tiene lì in una sua zona poi li somma e poi lo scrive in c proprio tutti questi passaggini succedono ok? questo sembra ovvio e stupido qui ma vedrai che dopo diventa tricky ok? ok e voilà perfetto prossima riga prossima riga fa va a cercare cos'è la formula print ok allora l'esecuzione di funzioni è un po' più complicata quindi sì diciamo ma prima ancora cosa deve fare? cerca di ecco qua e? non la trova eh? perché dove guarda? perché guarda nel global frame e vedi D? no non c'è quindi ti dice pupa mia fava io D non ce l'ho che in inglese si dice name error D is not defined adesso è chiaro a livello più profondo che cosa vuol dire che non è definito io non ho un cassetto un record una variabile che si chiama D che cazzo vuoi? questo è l'atteggiamento di Python che cazzo vuoi? dice proprio sì sì è un bullo è un bullo sì 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 è un berry ripeto chat lo so che sembra stupido quello che vi sto raccontando ma fidatevi che dopo succedono delle cosettine che non vi aspettate ok? you have to stick questa è proprio la cosa base 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 fun fact per chi ne sa sì tutto il processo di andare a prendere una variabile sono la la pop pop add i store e push per chi si intende di micro architettura che mi fa venire quasi da piangere mi commuove quando studiavo queste cose ma non ci preoccupiamo c'è quello che succede sotto per dire prendo il contenuto di A e prendo il contenuto di B e lì sommo ti ricordo che queste sono stringhe di bit pezzi di memoria che devono essere sommati e finire dentro la CPU che è una sommatrice di cose quindi sotto ci sono ancora cose più complicate ma non ci interessano a questo livello no non ci interessano non ci interessano bene andiamo avanti adesso con un piccolo incremento di complessità finiamo qua ah ok ok da quello che sai secondo te cosa succede? allora prima mette dentro al allora prima di tutto crea un frame dentro al frame crea un record l uguale a 1 2 something va vista 1 2 something poi siamo solo a prima riga prima riga prima riga giusto giusto per quello che ti ho detto io è così giusto è così e invece guarda cosa diavolo è quella roba lì perché è un oggetto che contiene più record perché non è perché dentro contiene al punto 0 1 al punto 1 2 è come se dicessimo ok dentro lì non ci mettiamo una singola oggetta ma ci portiamo mettiamo un porta oggetti come nei cassetti del bagno invece ci sono vari blocchettini quindi devi mettere dentro bravissima c'è un dettaglio fondamentale però il cassetto L non contiene il porta oggetti contiene un riferimento al porta oggetti si chiamano puntatori ho una metafora perfetta ok diciamo che in questa cassettiera tu vuoi ospitare un tuo amico ovviamente non ci sta nel cassetto eh no che non ci sta perché lo stack è di dimensione fissa e tre variabili non ci stanno lì dentro non ci sta una persona dentro una cassettiera si è esattamente la stessa metà cioè siamo lì ok una persona cioè una lista è troppo grossa per stare nello stack una cosa complessa come una persona non ci sta dentro una cassettiera ma è proprio grosso di memoria cioè non ho abbastanza spazio per ospitare tutti quei dati ok come quando hai la chiavetta piena la stessa cosa lo stack è grosso dieci centimetri e voglio infilarci dentro una roba di un metro e ottanta ok avrei potuto dire sedici bene ora allora cosa faccio aspetta aspetta che cosa faccio invece che ospitare la persona lì dentro prendo un biglietto di carta e scrivo il suo indirizzo di casa sua o ci metto una foto no stick to my metaphor è un indirizzo di casa sua ok o di un posto dove ci sono i box dove viene tenuta ok dove effettivamente può stare è importante la metafora dell'indirizzo perché quando tu vuoi accedere alla lista o alla persona apri il cassetto esattamente come facciamo con A e B prendi l'indirizzo lo leggi poi sali in macchina e ci vai ok ah ok il po tutte tutti i tuoi grandi oggetti vivono tutti in via IP ok e in via IP c'è al civico 7456 949 eccetera ok c'è la tua lista si chiama indirizzo di memoria la memoria è come una via e a ogni civico ci abita qualcuno ok ok quindi nel frame mi viene messo un indirizzo per dove trovare un link per dove trovare il questo oggetto nella heap memory bravissima perché prima eravamo nella stack è come ok capisci perché nella nella tua stack non ci sta la persona intera quindi io metterò un sacco di bigliettini è come il computer che c'è la ci sono due memorie quella più veloce però che però è più piccola e quella invece più lenta che però è più grande in realtà questa cosa che ti sto spiegando è come funziona il riferimento a memoria ok la memoria riferita è ovunque dentro il computer cioè non è che sono inventati quelli di python è una roba che c'è dappertutto ok ok quindi è un sistema classico si chiama indirizzazione indirizza qualcuno comunque direbbe come qualcuno direbbe anche tranquillamente come blob e club nelle db oracle oracle tutti lo direbbero perfetto indirizzamento esatto quindi adesso però quindi adesso te l'ho spiegato bene 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 noi per non dover ripetere tutte le volte questa cosa adesso un po' lo facciamo ma diciamo che è un puntatore quindi è una freccia ok ok ed ecco perché c'è questa freccia va bene adesso questa è difficile mi stupisco ok scrivi con calma si si ti stupisci mi stupisco se la sai mi stupisco se la sai riga 2 che cosa succede voglio che mi dici proprio tutto tutto quello così quello che succede in riga 2 è creo dei creo prima di tutto creo il global frame cioè dentro il global frame ci metto dentro di con il link a un oggetto in nell'altro nel hip hip hop e lì dentro ci sarà una non lista ma dictionary e verrà definito come nella lista c'era 012 e invece che mette 012 link dove c'è quella cosa in grigio verrà scritta la e dove c'erano i numeri scritti in bianco ci verrà scritta la value la parte che mi interessava non è proprio così ma la parte che mi interessava ma questa è solo come rappresentato ok non è che la parte che mi interessava però era giusta cioè D contiene un puntatore ha un'area di memoria nel lip quindi ti ho stupito perché l'ho detto più o meno giusto sei stata molto brava adesso andiamo a parlare poi di come sono fatti questi robi qua ok qui ci fa vedere gli indici per comodità in realtà ci sono nella lista perché quando tu vuoi accedere ad un elemento poi lo usi ma adesso lo vediamo con calma quindi D è fatto così adesso attenzione adesso questo è difficile L D come è fatto eh uuuuh ah lo so lo so lo so e secondo ci sono ci possono essere più hip no l'hip è unico ok uno solo allora secondo me quello che fa prima di tutto crea un 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 record in frame che si chiama ld poi crea un dictionary in meglio nella hip negli tra gli object e alla voce friends ci sono anch'io alla voce friends praticamente lui come value metterà un altro link a un altro oggetto nel hip straordinaria intelligenza bravissima sì è così adesso qua c'è qualcuno che inizia ad avere un po' di ansia che diceva che cazzata queste occhio perché qua si fa rapidamente complicata la questione è così poiché una singola cella del dizionario non può contenere a sua volta tutto un oggetto complicato a piacere ci vuole un puntatore puntatori ovunque ma quindi se io continuassi a creare cose all'interno della lista allora ci sarebbero continuamente puntatori su puntatori su puntatori su puntatori oh sì e non hai ancora visto la cosa brutta dei puntatori adesso ci arriviamo orco allora adesso diciamo perché qui abbiamo visto l'abbiamo solo creati ma non abbiamo fatto niente adesso volerei che provassi a spiegarmi riga 5 no niente sei carina allora quello che fa è va a vedere nel global frame cerca ld trovato ok andiamo dove dice lui andiamo all'indirizzo di ld ok arrivati su ld gli dice andiamo nella stanza friends ok andiamo nella stanza friends entra guarda e allora e lì c'è dentro dentro la stanza una stanza grande vuota con un bigliettino in mezzo con un altro indirizzo ma che voia guida e arriva fino alla lista alla lista dice ok ci dobbiamo aggiungere un'altra cosa va bene dai aggiungiamoci anche apriamo creiamo un nuovo cassettino lì dentro no non cassettino qui è tutto libero è una zona degli hippie è più hippie che hippie allora prendo questo chi era prendo Obama e ce lo butto dentro brava quello che hai appena descritto è esattamente quello che fa il computer perché questa scrittura con le brackets dice accedi a ld entra dentro ld cioè segui il puntatore e poi quando scopre che quello a cui dobbiamo accedere è una lista ed esegue la pend va nella lista e c'è pend Obama molto molto bene voilà bene riga 7 vai riga 7 allora crea una nuova un nuovo record nel frame quando arriva ovviamente quando arriva o mi ha togliere dice mister Obama nella lista vai vai questo è un riferimento a Berlusconi prego ok ok allora cosa fa crea un nuovo record in global frame che si chiama other friends un bel numero un nome lungo lungo però vabbè equal e allora lì cosa fai è lunga allora cosa fai crea un nuovo link e andiamo a creare un nuovo spazio questo anche se è vuota lo fa non è un problema di quanto è grossa anche una lista vuota è indicizzata con un puntatore ah ok vabbè comunque non è un numero non è una cosa singola allora allora questo tema che poni tu è ok ma quando è che va nel leap e quando è che non va nel leap in realtà credo che allora in java come dicevo questa cosa è molto precisa int boolean char sono e double e float sono tutti nello stack tutti gli altri sono oggetti anche string è un oggetto in python credo che siano tutti oggetti in realtà sono tutti nel leap ma il loro comportamento differisce perché i tipi cosiddetti primitivi che sono int boolean e double credo in python sono vengono trattati come se fossero nello stack ok non è non è fondamentale comprendere è fondamentale comprendere che questi qua hanno i puntatori tutti gli altri hanno i puntatori ok perché adesso ti farò vedere delle cose importanti la cosa che cambia è l'immutabilità cioè una stringa tu non la puoi cambiare un numero non lo puoi cambiare ok quando tu fai a uguale 5 a uguale a più 1 il numero viene rimpiazzato non è cambiato ok la differenza sta nella mutabilità ma la cosa fondamentale tu pensala così numeri string stanno sullo stack tutto il resto è tutto puntato tutto ciò che è singolo se stande esatto i singoletti le cose primitive le cose più facili e questo è solo per capirla così perché tanto quelli che avevamo detto all'inizio nel primo video che potete trovare qua non credo che succederà la video metterà una card per il primo video no non la metterà no però la cosa però dicevamo ci sono boolean float integer and strings si diciamo ripeto per chi conosce python so che non è esattamente così ma questa vuole essere una cosa più generica di python di per sé per farvi comprendere la differenza tra i puntatori e i non puntatori il tema è che tanto con le variabili primitive è impossibile fa cappare i puntatori mentre con quell'altra adesso vedrete che è ampliamente possibile fa cappare i puntatori e Giulia l'ha anche fatto a un certo punto e io tipo ho detto no 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 non scriverlo così scrivilo cos'ha il motivo è che dietro c'era tutta questa roba qua comunque andiamo avanti abbiamo creato la lista quindi indipendentemente dalla sua lunghezza tutte le liste sono sempre ospitate nel leap e quindi other friends ormai siamo sappiamo ormai sabe ormai sabe non è più un problema no? ok e ora niente perché non c'è apparentemente più nient'altro mi sembra strano ah no no manca una ok abbiamo finito la lezione grazie no manca l'ultima riga ci metteremo molto più di mezz'ora ma non importa manca l'ultima riga vai ok l'ultima riga vabbè in questo caso di nuovo vado a cercare tra i record ld trovo ld vado vado dove dovevo andare trovo friends è un'altra cosa neee sì in realtà qui ci stai assegnando qualcosa dentro quindi non lo percorri ah cosa succede? cioè no ti ho già un po' spedera dimmi cosa succede qua dice allora lì mi aspetto di trovare assolutamente other friends e allora qualunque cosa ci sia spattacco dentro other friends cos'è other friends? è il link ah il link ecco la faccia ecco la faccia della realizzazione il link a l'oggetto che era la ok quindi quando l'indirizzo ricordati cosa abbiamo fatto con a quando l'indirizzo ha un nome se io scusami se io faccio a uguale 5 b uguale 10 e poi scrivo c uguale a che cosa succede? che il contenuto di a viene trasferito dentro c ah non va con l'indirizzo lì quindi semplicemente prendo il contenuto e lo trasformo lì quindi tu devi prendere il contenuto di other friends che è il fogliettino di carta allora vado è il fogliettino di carta? eh sì quindi ci devo mettere dentro l'indirizzo esattamente adesso anziché quindi mi indicherà la friends anziché contenere l'indirizzo che porta a questo robo qua contiene l'indirizzo che porta a questo robo qua cioè il fogliettino che stava in other friends domanda sì cosa succede ai vecchi friends? muoiono vengono sparisce? cioè nel disegnare spariranno? non subito ma quella zona di memoria si dice che non è più indirizzata quindi è inutile nessuno potrà più accedervi ok? è finita in un universo dove non ci puoi più entrare e quindi dopo un po' muore ah dopo un po' il computer dice questo è vero da un altro processo che gira che in java si chiama garbage collection non so se esiste anche in python però c'è uno uno spazzino che dice ecco qua un'altra zona di memoria non indirizzata questi ragazzi e quindi lo pulisce considerate che in c credo dobbiate farlo voi a mano non ne sono sicuro ma penso di sì se mi ricordo bene quindi esatto è come l'ama di roma è la stessa cosa e guarda qua cosa è capitato ah vedi puntano lo stesso c'è una copia dello stesso bigliettino proprio ah ci metti dentro il bigliettino ah perché il bigliettino è l'indirizzo ok eh esatto adesso c'è il bigliettino copiato quindi il valore il bigliettino è un valore ok è proprio x7 4 bla 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 è un indirizzo di memoria via ip 5 ok quel fogliettino viene copiato e messo sia in other friends che in friends e questo dovrebbe lasciarti anticipare che è fonte di divertentissimi problemi eh sì perché se poi fa capo qualcosa nell'indirizzo che fai? fa capare qualcosa nell'indirizzo è difficile però adesso hai due punti d'accesso alla tua variabile ah perché io adesso posso eh ma se tipo io vado a modificare ld friends eh non vado a modificare other friends eh sì invece che vai a modificare other friends perché? perché sono la stessa cosa sono indirizzati da due parti diverse ma sono lo stesso luogo fisico di memoria cioè se io in questo momento adesso dicessi ok ld friends punto append qualcosa mi modifica anche other friends guarda brava allora facciamo proprio eh mi sa che ho dopo un esempio per fartelo vedere però ld friends punto append ehm non lo so ciao ok e poi faccio print other friends vabbè ma sì ok ok eccoci qua eh ora cosa succede che ciao viene impilato qua sotto eh sì eh sì e quindi quando ci riaccederò nel print ciao è qua dentro e se printi ah ok this is fucked up this is very fucked up sì lo è perché quando modifichi variabili che hai trattato a buco del culo e lasci puntatori a casaccio poi non ti ricordi più dove hai messo cosa modifichi uno e modifichi anche l'altro ah però ok ok quindi ok magari questo è un passo troppo avanti però rispondimi tanto velocemente quindi se io per questo che spesso usiamo punto copy per esempio se io adesso facessi invece che ldfriends uguale otherfriends punto copy non mi manderebbe a quello lì mi manderebbe una copia sì e in caso se vado a modificare otherfriends non mi frega niente è così quello c'è una differenza in programmazione fra quello che si chiama shallow copying e deep copying ok perché questo problema si ripercuo immagina di avere una lista di liste di liste di liste di liste che dopo vediamo che sono tutte tutti con i loro piccoli riferimenti no quando fai una copia devi andare fino in fondo a copiarla tutta altrimenti la parte sopra è duplicata e la parte sotto è la stessa in comune capisci sono dei bei cazzi quella roba lì però brava ottima deduzione facciamone ancora un pechettino un pechettino e poi facciamo pausa ok ok allora adesso continuiamo a vedere questa situazione abbiamo un nuovo codice eccolo qua chat vi devo momentaneamente togliere mi sa che non so più dove metterli vi lascio qua sopra sono sopra di me qui qui no 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 li ho fixati li ho fixati allora iniziamo con la creazione di una lista a questo punto tu sabe no si cosa succede qua creiamo l come record e dopo che mi punta la lista abcd in heap bravissima adesso facciamo un loop oh porca voi ok serious stuff allora i loop noi abbiamo sempre fatto un po' finta di niente ma si itera un po' di volte no ma abbiamo capito che i computer sono stupidi quindi i loop sono una palla perché devi creare il quadratino per i devi creare il quadratino per range che è un oggetto di tipo range che è tipo una lista ma non è proprio una lista però più o meno la stessa cosa e anche quello sta nel loop mi sembra e poi devi aumentare i finché non finisce range quindi quello che succede è questo posso dare la freccia no non posso dare la freccia per andare avanti questo è una noia lo dezoomo un pochettino shut perché mi serve il next ok quindi ecco che viene creato i all'inizio vale 0 non ci sto capendo una sega range non è non lo fa neanche vedere qua però range quindi crea un record i e lo ci mette dentro 0 si poi fa la cosa e fa la print ok qui non si vede neanche ma dopo si vedrà meglio però questo range è da qualche parte se l'è salvato e lui fa scorrere i assume un nuovo valore i ogni volta che andiamo avanti in questo range quindi b poi c vedete che continua ovviamente va avanti indietro non può che fare così no bene i è diventato 3 ok si e rimane lì e vale 3 in realtà dovrebbe scomparire a mio modesto parere e invece lo lascia lì vabbè però in teoria dovrebbe scomparire perché i esiste solo dentro il for ma forse no forse posso fare print i non lo so no perché se lo mette lì nel global frame dovrebbe esistere anche cioè esiste punto guarda facciamo subito un test print i fuori perché per quello che vi ho detto se c'è la posso stampare no vediamo se è vero è lì è l'apostrofo i e invece rimane ha ha le mau non lo sapevo neanch'io ok i rimane qui infatti rimane nel global frame non lo sapevo fico ok ok bene sì posso anche fare così per rendervelo ancora più chiaro visto che anche io scopro cose però con le basi che sappiamo possiamo dedurre tutto quello che vogliamo perché così è proprio come ragiona il computer ok è bellissimo comunque questo software sì non è male ha delle limitazioni ok se leggete qua sono un po' le cose che vi ho detto ecco vedi che r è un range da 0 a 4 che è equivalentemente ad una lista 0 1 2 3 quindi quando la i scorre si pappa un valore da range e va avanti ok quindi più o meno è come prima insomma adesso andiamo ad un altro for questo è il classico for each ok ok sì quindi creeremo una variabile come si chiama la variabile sarà elem sì e dentro elem cosa ci finirà ci finirà a e poi b e poi diventerà c e poi diventerà d ti chiedo l'assegnamento elem uguale a z avrà avrà impatto sulla lista no perché perché tu lo fai diventare l'elem che è nel global frame no l'elem che è nella lista bravissima giusto vedete così non potete più fare errori perché se sapete cosa fa il computer e that's shit esatto è così non può che essere così e infatti è così elem contiene a quando ci scriviamo sopra z non succede niente alla lista perché elem ma non salta il puntatore ha copiato un valore del puntatore cioè ha percorso il puntatore ha preso un elemento gliel'ha scritto lì questo lo fa il for per noi ma non impatta sulla lista non sto accedendo alla lista quindi questo for è completamente inutile non succede niente guardate ogni volta ci scrive z ogni volta il for lo uh no ok adesso questa l ah devo andare avanti ok adesso l crea di nuovo un record nel govern frame che si chiama l che punta a una lista dove ogni singolo elemento punta a un altro oggetto nella 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 nello heap e per esempio il primo è nell'oggetto nelle heap è una lista a dentro come unico elemento a poi c'è un'altro un'altra lista tutte separate bravissima partono partono quattro freccette è così e dove dove è messa questa l la quella l lì è nel global frame come era al posto di questo qua ah è vero che c'era un'altra l non mi ricordavo perché l viene sopra che è un cassetto che c'è già al posto di quello là e il list rimane senza una freccetta che la indica quindi prima o poi il garbage collector lo andrà molto bene ecco qua proprio quello che hai descritto tu ma è buttato via subito comunque è andato è andato si beh qui considera che questo è un software che ti fa vedere cosa succede cioè non è proprio quello che succede e ci assomiglia abbastanza da poterne parlare però ecco qua è così bello adesso col for dopo cosa succede col for dopo for element in L quindi cosa fa element è quello che c'è in L e quello che c'è in L è un indirizzo quindi va a prendere quello che c'è lì c'è l'indirizzo va a prendere A che A però è l'indirizzo cioè scusami il primo elemento di L è l'indirizzo ad A non è la lettera A quindi va a prendere tra parentesi NN A quindi la lista A l'oggetto A e crea una nuova variabile che è soltanto interna al for no che non è soltanto interna al for no sì che è soltanto interna al for loop che si chiamerà che sarà Z e dice ancora una volta fa element uguale a questo nuovo oggetto però ancora non lo va a sostituire perché va a dire ad element metteci questo scusami ringrazio intanto Sara per l'host grazie Saretta benvenuti curo Lilini piccoli stiamo facendo una cosa da noi da noi che a me appassiona però grazie grazie mille per l'host stiamo facendo vedendo come funziona la memoria di python una roba un po' intricata però ci sono delle freccette se volete poi comunque tutto sta su youtube se volete recuperarvela e vi appassiona questa cosa che sta succedendo sì come hai detto tu new lm viene viene creato un new lm lì dentro che contiene il puntatore ad una nuova lista che si chiama Z partiamo da questa riga soltanto ok quindi adesso vengono fatte due cose in lm cioè prima viene fatto lm che punta al primo elemento sì poi viene ah perché ok che punta al nuovo elemento ok e poi crea e poi dice lm adesso deve essere uguale al nuovo lm che è l'oggetto che punta ad A quindi guarda non ti complicare troppo la vita prima una riga tanto il computer fa una riga alla volta quindi non sa niente di cosa succede prima e niente di cosa succede dopo quindi riga 20 cosa succede? riga 20 crea new lm che è Z che è un indicatore a Z è un puntatore ad una lista che contiene Z punto finito tu devi così secco cioè non ti interessa cosa succede prima o dopo tanto il computer non sa cosa succede prima né dopo ogni linea è a sé hai ragione mucci ok voilà ok ok adesso riga 21 dice alm toglie quella freccia che va verso A e la indica giù e la indica a quello che è uguale new lm che è l'oggetto cioè fa anche lui la freccia giù a Z sì esatto lm adesso contiene il puntatore che conteneva new lm è chiaro quindi questo for fa qualcosa alla nostra lista iniziale no no anche questo for è completamente inutile fa un po' di ginnastica di puntatori ma ginnastica sì ok qualcuno in chat giustamente mi fa notare non è del tutto vero che il computer non ha idea di cosa succede ma in realtà credo che venga implementato a livello di CPU la branch prediction ed è un modo per risparmiare tempo di computazione per sapere quali rami degli if buttare direttamente via ma non mi cagate il cazzo diciamo che non sa niente ok bene perfetto lo so ogni cosa che dico si potrebbe contestare però cercate di capire il contesto chat bene adesso questo altro loop questo loop cosa fa? scusa eh si questo loop prende for element in L quindi crea di nuovo prende di nuovo element e dice ok adesso sei il primo coso di L e L è quello lì sotto quella lì e L è il puntatore a Z sì considera che adesso LM ricomincerà quindi punterà alla what? aspetta un secondo ma infatti sono cambiate le Z poi che sono cambiate ho esagerato ho esagerato ah ok ok così così è come siamo all'inizio deve eseguire la prima volta del for allora devo ancora eseguire la prima volta del for quindi crea element cioè non crea cioè già prende element e gli dice ah no aspetta aspetta tu adesso non sei più quello sei il puntatore ad A perché vai a vedere quello che c'è nella lista quella lì vai a vedere cosa c'è in L e in L la prima cosa è il puntatore ad A bravissima ok quindi fa questo quindi questo e basta poi che è quello che hai detto tu LM adesso punta al primo elemento della lista perché è un for each quindi sgrana tutti gli elementi della lista perfetto e qui però cosa succede? lì cosa fa? lì dice ok adesso element 0 la prima cosa che trovi in 0 adesso sarà uguale a z e quindi mi va a dire quello cui stai puntando fallo uguale a z quindi questa volta la lista vera alla fine cambia e infatti per ognuno di questi elementi fa questo e alla fine la nostra bella lista è cambiata perché abbiamo acceduto alla lista usando le quadre ok le quadre adesso non vorrei dire delle cagate perché mi sa che non è sempre verissimo però potete quando ci sono le quadre di solito si salta un puntatore ok bene molto bene pausa quindi il compito di oggi ah torniamo ad implementare un pochettino la prossima volta vediamo cosa succede alla memoria quando facciamo dei metodi e list comprehension delle cose un pochettino più complicate però ottimo inizio ok stiamo iniziando a capire cosa succede veramente lì sotto e ti abituerai alla lunga a non pensarci neanche più però deep down saprai che sta succedendo quella roba quando un codice vi stupisce per il suo andamento ripensate alla memoria e capirete perché il programma sta facendo delle cagate anziché quelle che vorreste voi ricordatevi che Dicetra diceva la maggior parte dei problemi di un programma si trovano seduti davanti allo schermo ok quindi è quasi sempre colpa vostra ragionate su questo inoltre diceva anche è impossibile verificare l'assenza di bug solo la loro presenza comunque Dice non giga chad ovviamente allora i compiti o compito di oggi ragazzi è super divertente super divertente generare un semplice la mao programma quiz che dati due autori estratti a caso dal file data authors si parla di autori musicali ok li proponga all'utente domandandogli quale dei due ha pubblicato più album qualcosa del tipo chi ha pubblicato più album fra bello figo e i queen con 1 o 2 l'utente dovrà rispondere con 1 o 2 e il sistema gli dirà se ha vinto oppure no continuare a fare indovinelli finché l'utente non scrive stop come risposta alla domanda gestire tramite eccezioni l'inserimento di un valore non corretto che quindi non è né 1 né 2 né stop ok ora l'unico problemino è che se noi andiamo ad aprire in data artists abbiamo questa roba qua che voi sperate essere il numero di album ma non è così soprattutto perché non penso che Gali abbia pubblicato il file artist.json guarda la mia faccina la tua faccina? si su repli c'è la mia faccia sul file sulla sinistra bella faccia comunque eh vabbè il mio logo questa roba qua che c'è in authors non sono il numero di album anche perché appunto dubito che Gali abbia pubblicato 2 milioni di album ma sono degli id perché per poter sapere il numero di album dovremo ricorrere alle API di Deezer ok? secondo me già gli id ci dicono qualcosa però gli id ve li ho messi per aiutarvi ok? allora in realtà guarda ancora un attimo il mio schermo io voglio triggerarti un secondo si non si è pensato meglio farlo con SQL questo? no ok perché i dati che tu hai non ce li hai hai bisogno di devi chiederli a Deezer ok? tu non sai quanti altri ok ok se avessimo noi i dati potevamo fare noi un database ma non è così dobbiamo chiedergli via API no? come hai fatto con il compito credo perché devo chiedere l'API se avessi il data frame cioè se avessi i dati se avessi tutti i dati di tutti puoi fare un panda data frame e va bene puoi fare un database in SQL se avessi tutti i dati con SQL sarebbe stato più facile più rapido ora se guardi ancora un attimino il mio schermo oh no devo loggare qua ok vabbè dovete fare non c'ho l'account qui aspetta fammi fare una roba non far vedere quello che faccio io no nascosto non vedo niente e invece allora le API di Dazer sono delle API ottime che ci permettono puoi far vedere di nuovo posso far vedere? sì che ci permettono di ottenere informazioni sui sui musicisti ok sono completamente libere quindi non c'è bisogno di chiave d'accesso ed è per questo che ho scelto queste qua potete farlo con l'API di Spotify ma avete bisogno dell'accesso insomma è più complicato quindi volevo tenere una roba semplice ora quello che noi vorremmo fare è qualcosa di questo genere tipo questa ok api diesel.com artist slash 27 che è un id però boh chissà chi è ok è Daft Punk e qua in mezzo fra le varie informazioni guarda cosa c'è c'è numero di album quindi dobbiamo accedere a queste API ma l'autore deve avere un id preciso ok tipo se io voglio fare i queen che id scrivo qua se tu vuoi fare i queen sì gli ci devi scrivere boh devi cercarlo esatto non lo so si fa così bisogna usare un'altra API che è search ok venire qua mettere come chiave queen qui ok poi fare submit controllare qua dentro di avere di trovare l'artista perché questo qui è un album ok eeeh pa 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 trovare queen che ha l'id 412 ok e poi qualcuno in chat giustamente sta dicendo broschi e se ci sono degli anonimi omonimi omonimi se ci sono degli omonimi devi capire quale che intendevi tu quindi per semplificare tutto questo lungo processo ok torniamo di qua io vi ho già fatto lo script che vi dà l'id va bene e si chiama get artist ids è questo semplice script potete guardarvelo fondamentalmente quello che fa è utilizzare l'API di search per artist prende la lista di autori che ci sono qua dentro e ti genera in automatico il json che ad ogni artista associa il proprio id quindi se proviamo ad utilizzarlo facciamo lezione 6 compiti e poi get artist id questo qua lo avrete perché vi serve poi per il compito ma non so ci fa il lord directory cosa ho scritto lezione 6 compiti get artist ids ok qua ti dice ho trovato esattamente un match qua vi fa vedere anche le foto degli autori questo è albano apparentemente questa è mina ok quindi alla fine vi dà questa mappa finale dove quindi l'unica cosa che dovete capire di questa roba qui è che vi dà questa mappa e questa mappa è questa e artists json quindi l'id di un autore l'ho trovato da qua perciò tornando alle nostre API di Deezer possiamo semplicemente fare questa API qua slash artist e mettere qui l'id che prendete da quella mappa là questo è Elio e le storie tese se volete i Rolling Stones venite qua Rolling Stones ok però comunque dobbiamo accedere da quel file lì sì dovete prendere il file estrarre casualmente due autori chiederli all'utente l'utente vi dice uno o l'altro e poi controllando i dati accedendo a Deezer saprete se ha ragione oppure no ok non è facile è un compito lungo ma lo facciamo insieme pian pianino ok ok in compiti uno compiti uno sì ecco io l'ho già iniziato ti ho già aiutata mettendoti l'url base qua ci va va infilato l'id ok prego allora quindi fai come hai fatto ieri scomp oh venerdì scusami vai allora prima di tutto rileggiamo un secondo i compiti allora perché prima non ce l'ho per i fattacci nostri in live questo qua la prima parte basta giusto quindi generare un semplice programma quiz che dati due autori estratti a caso dal file proponga l'utente domandogli quali abbia pubblicato più album qualcosa del tipo che abbia pubblicato più album tra bello fiego e due rispondere uno o due se si stanno gli dirà che ha vinto o no ok finché stop ok inserimento di un valore non corretto né uno né stop ok come vedo questo compito un po' una merda però allora come lo vedo lo vedo in prima di tutto creare la parte di input perché dobbiamo creare la parte quella tutta sì no c'è shim che mi guarda scusa creare la parte di creare in parte in perché creare input quindi chiedere chiedendo due autori quindi deve estrapolare due autori e metterli e metterli lì poi la seconda cosa che farò sarà limitare le risposte perché devo dirgli se non è nessuno né uno né due né stop limitali cioè dirgli no raise an exception ok giusto con ex 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 exception ok dopo che avrò limitato le due risposte le dovrò fare quindi ho valutato che gli input siano corretti mi ha dato una delle due cose se è stop le farò fermare se è uno o due vabbè si salverà lì qui dovrò fare accedere alla API e ricavare i dati per i due 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 artisti si poi dovrò confrontare i valori e trovare chi è trovare la risposta giusta e poi dovrò confrontare la risposta giusta a quella dell'utente l'utente e dare e dire bravo o no basta si questa è l'idea e tutto questo diciamo in un loop ma quello possiamo metterlo tutto questo in un loop che però e poi dopo come ultima cosa cioè lo metto in fondo anche se non sarà in fondo ovviamente questa cosa del for loop però lo metteremo lì però sarà l'ultima cosa che farò continuo renderlo renderlo continuo con un for loop fino allo stop yes perfetto ok quindi si puoi anche fare che una volta che dà la risposta forse è più semplice così chiede i due ok devi dire uno o due se no exception esatto e poi quando ti dà la risposta dice continuare e lì deve dire che ne so si no e se non è si finisce può essere più semplice così no stop hai detto che vuoi con lo stop può essere stop e se non è stop continua cioè fa due volte la domanda è un po' più semplice poi c'è accetta tre risposte uno due o stop se è uno o due cruciate con tutta la cosa della compro facciamolo con due domande diverse così è più pulito il programma il flow è un po' più chiaro ma è giusto è tutto è tutto così ma semplicemente al fondo chiedere se andare avanti dare l'esito e chiedere se andare avanti quindi in questa domanda qua se mette qualunque cosa tu vai avanti ma se mette stop fermi se metti andare avanti sì se dici di no no eh tipo così sì ok adesso intanto creare input chiedendo due autori quindi intanto dobbiamo cercare di accedere a questo file e prenderemo come valori quelli tra cui dovranno essere scelti to be searched artist allora ti suggerisco adesso questo è un buon programma dove avere dei metodi separati che fanno cose ok quali sono secondo te io vedo due funzionalità ottime per avere dei metodi separati in che senso cioè due cose dei metodi che fanno precisamente una cosa di tutto questo tipo innanzitutto qua chiedendo due autori quindi la prima cosa che devi fare è estrarre gli autori a caso no sì ecco secondo me i metodi potrebbero starci per questo e per questo però vedi tu io li farei a parte cioè sono una logica a se stante ok ma tu sei sette passi più avanti rispetto a dove sono io io sto ancora pensando a come posso accedere a quei valori lì ok hai capito sono molto 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 indietro mi taccio a come accedo quella lista che è un altro file python vai ok intanto estrarre gli autori cioè io se volessi accedere a questi artist to be searched artist è una variabile in questo file e cioè avevi fatto tu un'altra volta no 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 questo script è a parte non c'entra niente questo ti genera il file artist non posso importarmi questa lista nel mio file non è quello che vuoi fare anche perché hai bisogno degli id cioè potrei ma tu non vuoi sì ma perché non ha senso perché questo qua è un programma a parte che ti dà gli id e poi tu il tuo programma non lo sa neanche che esiste quel file ok quindi questo qui ok 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 quindi semplicemente ho tanto in data ok quindi no data qua ok quindi io voglio prima di tutto apriamo questo file with open siamo su nel main quindi lezione choose my changes no 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 cosa stai modificando niente niente ok choose open lezione 6 chat provate a farlo anche voi intanto questo è un compitino carino compiti no data che no vi faccio già la commit se vuole se vi faccio già la commit sì ci sta con l'intenzione di leggere non maiuscolo con l'intenzione di leggere mentre abbiamo questo libro in mano con l'intenzione di leggere lo leggiamo ed era me lo salviamo come artists ed era json.load ah qui dovete mettere as f load f ok mi hanno dimenticato questa parte ok in questo caso adesso noi abbiamo salvato come dictionary il quel i data quindi adesso abbiamo in i data gli artists cioè abbiamo sì abbiamo gli artists lì abbiamo questo dictionary sì adesso noi vogliamo allora dei artist dictionary noi vogliamo gli artist name sono gli suggerisco sempre quando fai un caricamento fai una piccola print per vedere che li hai presi giusti prima di andare avanti no un piccolo print di artist dick ma me ok ho anche delle keys se vuoi mi cambi il main fatto ok ok perfetto abbiamo tutte le keys sono salvati come dictionary keys però non come sì perché hai fatto il punto keys ma è una lista funziona è un oggetto un po' più specifico ma sì ok come si può introdurre la randomizzazione qui questo non ve l'ho mai insegnato no perché cioè io me lo ricordavo me lo avevo fatto ma non mi ricordo più allora questo con il seed se non lo sai l'unico modo che hai è googlarlo how to extract random element in realtà ti suggerisco di how to extract two random elements from a list perché se no rischi se lo fai due volte rischi di beccare lo stesso import random random choice two ok importiamo random e con random sicura che sia choose choice sicura che sia choice choices leggi un po' bene cosa dice di choices a random element from a list se non ha random numbers eh ma devi devi fare attenzione se hanno la ripetizione oppure no ok quindi sample esatto sample e without repetition random sample ok ok random sample e dentro ci devo mettere da che cosa e quanto quindi artist name 2 e questo qui cosa ritorna sta roba cosa ritorna sta roba printiamo qua non c'è autocomplete tutto a mano the beatles name poi lo riranno e le restate sembra che funzionare ok quindi 2 artists si salvano lì e non è lì chiesto tanto una volta creare no e non c'entrava il commento non lo so spostato creare input chiedendo due autori quindi ok quindi adesso hai gli autori puoi chiederli ho due autori si adesso dobbiamo inserire input cos'è che volevi mettere come domanda voglio copiare quella lì così dopo non mi dici ma non andava bene perché non è ok qui ah grazie qui ci mettiamo parentesi e qua un'altra parentesi così possiamo usare la cosa del format e ci mettiamo non c'è la lista qua no ci metto dentro così e basta si tu artist 0 e tu artist 1 ok ok 1 perfetto ok yes ok adesso io qua devo fare la cosa dell'exception do qua metto molto bene molto veloce eh Giulia non so se anche voi siete già a questo punto ma grazie tutta la cosa che ero brava eh if eh dobbiamo salvarlo come un qualcosa quindi risposta eh 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 no non answer ma no answer user answer meglio talking variables si ha capito talking variables ma non enc level talking variables perché altrimenti if user answer is in e qua mettiamo si user answer lower is in si no guarda rispondo uno e due rispondono ah è vero che tonta due e qua ci metteremo tutto quello is not è meglio fare is not brava molto bene perché se no not in poi perché cos'è 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 is in is in oppure no is not in no è vero not in o in non c'è is no non c'è is is non c'è cioè c'è is ma non qua qua vogliamo fare con l'exception si esatto allora in questo caso non mi ricordo exception andiamo sull'exception grazie Andrew per gli otto mesi grazie Kla per gli otto grazie Daesh per i quattro punto esclamativo prime per supportare questo streamer potremmo farlo con questi streamer che fanno delle cose un po' mazzarelle no mi piace con try è troppo lungo no niente try qua dimandi le eccezioni dice ciao raise exception qui abbiamo lezione 6 qui raise exception e please è in italiano aspetta per favore si dice scegliere una considera che il programma qua termina quindi è tipo risposta illegale uno o due punto poi volendo uno potrebbe catturare l'eccezione e rifar ricominciare il loop ma quella parte è noiosissima risposta non accettata esatto punto punto ciao ok in questo momento vi metto un commento qua perché dopo dovrò ammettere di richiedere no 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 ma non lascia stare tanto no se non se è un deficiente non ti puoi permettere di giocare ok perfetto raise exception e non devo proviamo non dirmi la risposta voglio vedere se cosa succede qua ci metto 5 ok lo raise subito ok perfetto penso che deve fare un print o qualcosa no sì è diciamo è molto brutto questo punto di vista l'interfaccia utente bisognerebbe catturarla però volevo provare a farmi mettere un exception vabbè chi ha voglia poi può farsi la cattura ma adesso noi che siamo già di fretta cioè per non fare 50 ore di programmazione lasciamo così ok adesso mi metto un memo qua me lo metto forse da cambiare in int perché per ora è una string me lo metto lì perché magari dopo non capisco perché non funziona potrebbe essere importante dopo accedere api e ricavare i dati dei due artisti allora le api le api dov'è ah ok andiamo a vederci l'api devo fare anche il login aspetta eh non ce l'ho zio pinolo sign in with google ok non ti piace no no va bene però per comodità stavo pensando perché sennò io non vedo ma non ci voglio di fare che tu usciari perché poi non ho la telecamera guarda ti metto qua come aprissi il sito web ok te le metto qua sotto così le guardi da qua orribilmente devo dire ah eh allora l'api è questa è fatta così fallo direttamente qua faccio io la browser ok l'api è così qua ci vuole l'id dell'artista thank you e questa è la risposta ok 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 tatte fermo no ok tutto questo mi metto a commento se no mi dopo mi va rompere ok allora questo quindi quello che vogliamo fare è fare due call di questa ipi vogliamo accedere prima a quello dell'artista 1 e poi quello dell'artista 2 e artist name ok questi qui sono i name e sarebbero i nei value sarebbero su nei value qui diciamo che ti risparmi già un sacco di problemi perché sai che quelle api funzioneranno perché gli id ce li hai tu sei tranquilla le cose che hai inserito cioè sei tu a fornire perché se fosse lui a scrivere i due artisti sarebbero cazzi che dovresti cercarli non sai se li dice un sacco di problemi invece qua sei chill sai che ce l'avrai quell'api ok grazie prego allora ehm l'evitare bla 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 per me hai messo accedere all'api lo scrivo qua sotto sono giù 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 allora come l'avevamo fatto nello scorso compito che era venuto bene fammelo andare a vedere guarda nel compito numero 4 ah venuto province url così 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 mi copio sì mi copio questo che è interessante per quello che ci serve a noi l'url sarà questo ciao corn avendo in posto di questo questo e adesso dobbiamo trovare cos'è il artist id id ok per trovare artist uno id per trovarlo abbiamo artist dictionary questo values non non è keys and values no che cosa aspetta aspetta ragiona che cosa stai cercando cosa devi trovare tu io voglio trovare cioè nel dictionary abbiamo l'artista e il valore l'artista e il valore io voglio trovare il valore del primo quindi io vado no non è del primo necessario le hai estratti a caso quindi non hai detto che sia del primo no non è non è un problema diciamo che se tu no perché anzi è più facile ancora il random sample lo potevo fare sul dictionary praticamente l'hai fatto l'hai fatto sulle chiavi quindi l'hai fatto anche sul dictionary no ah sì 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 ah ok 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 non è zero ma è è per supera è di là quindi è tu artist zero yes molto bene ma non c'è freddo ma non è vero sono in canottiere ho caldo è una vecchia hai guardato fuori scusate scusate per l'interruzione artist 1 ID perché ce ne sono due no ce ne servono due ce ne servono due perché l'artista ci dà l'ID ok sì questo diventa artist bla 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 prendiamo intanto questo provi non provi su URL ma a a uno è URL ok e questo li commentiamo per ora scusate un secondo ok tornate e vediamo cosa viene fuori uno ok 412 proviamo ad aprirlo vediamo se ci manda effettivamente su internet ai queen perché era tra queen e eminem sì ci manda quello giusto ok quindi le pieghe è quello giusto ah sì name queen ok sì perfetto quindi questo è corretto ho gli altri print che non mi interessano che mi danno fastidio qualcuno sta bussando non so dove shin dov'è che stavano bussando un secondo che ho un po' paura boi ignoriamo sì ti suggerisco di metterti le cuffie poi guardare dritto in camera aprire MotoGP giocarci poi guardare dritto in camera toglierti le cuffie e correre subito fuori guarda un attimo il mio schermo fuori dalla porta non c'è nessuno sto guardando il tuo schermo non c'è cosa straga che è successo fuori facciamo sta gara pensare me lo ricordo perfettamente stavo per cadere stavo per cadere raga raga stavo per cadere ma guardate se non riesco a a recuperare ma guardate ma guardate se tante volte non ci riesco è stata lui? non è sotto lui ma è nudo? questa era la scena importante che volevo rivivere ma vabbè è una delle scene più importanti del web 10 milioni di visualizzazioni vale come memologia questo istituto memologico vai ma non c'era l'audio? no noi non abbiamo sentito niente non abbiamo sentito nulla noi vabbè non c'è niente a sentire vabbè andiamo avanti posto 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 non lo so tu vieni qua chiuditi dentro in camera con me al massimo ma è stato lui ma non è stato lui veniva da fuori ma semmai erano vicini da sopra che hanno sbattuto tipo il il martello o qualcos'altro non lo so qualunque cosa sia non ti aiuterà ad accedere all'API scusa che c'è la nostra vita in ballo scusa morirò come ho vissuto programmando grazie comunque e ho sopporto per qualsiasi rumore che sento quindi accediamo all'artista id la response sarà request get a una url e la riserviamo in json response in json ok printiamola così siamo tranquilli response json 1 rolling stones ok abbiamo tutto quello che ci serve dei rolling stones adesso dobbiamo accedere a numero album nb album giusto giusto ok che è una key del dictionary quindi dovremmo fare a1 album è uguale è uguale a response json sei tu faccia di merda si ma la cosa che fa ridere è che io ho fatto 50 secondi di suoni di di bussare e tu mi stavi completamente ignorando ma è stato anche prima no prima non ero io vai prima non ero io ti giuro che non ero ma l'ho appena aperto poi riguardati il vod l'ho aperto adesso per fare la gag vai io sto sudando freddo e tu fai così è per quello che shin si mette i suoni così su di freddo abbassa il clima si ma è tutto un grande archivugio da parte sua che idiota vai 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 tutto giusto comunque grazie grazie a1 album è response json che è quel json lì ahà in ok e abbiamo il numero il primo vediamo print perché non me non completa niente questo qua no soltanto quando non è dentro print che è tipo quando ti serve ok e ho il dubbio che non sia un integer vediamo diciamo che ho l'impressione che michael jackson 36 album ci può stare in realtà vabbè no è un intero lo vedi che è un intero lo vedi da qua riga 34 lo vedi che te lo dà come intero quindi questo è un intero ok chi è il king che ha fatto 170 album holy shit ok quindi abbiamo a1 album adesso dovremmo fare lo stesso per ricavo mi scrivi tu i commenti scrivi ricavo numeri album artista 1 grazie e poi scrivi lo stesso però per artista 2 ora ecco quando fai una cosa del genere ti dovrebbe venire un colpo apoplettico cioè come come ti può venire in mente di copiare quattro righe di codice identiche ci sarà modo per non copiare le righe di codice no facciamo un for loop ma che for facciamo fai una funzione si ma se faccio un for loop scrivo meno ma non è vero ok allora in python sono così eh get albums così con gli underscore tutto minuscole che cosa prende in input questo metodo prende la lista da dove da cui pire no ha bisogno di meno prende l'artist questo esatto quello è quello è il nome dell'artista gli serve di meno a tutto questo prende l'artista id esatto si ma allora dovrò fare due volte questo ok allora questo lo devo mettere fuori e dirgli ok 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 tutto questo è inutile perché questo non gli piace ah perché deve essere indentato e perché non gli piace questo a1 album faccio return non devo devi ritornare il numero ok poi questo qui adesso è a generico non è a1 si questo è a generico e questo è a generico ok occhio però che questo metodo lo devi mettere in cima perché altrimenti non te lo fa usare in che senso devi metterlo in alto perché perché non puoi chiamare un metodo prima di dichiararlo quindi questo lo mettiamo qua su così infatti il metodo lo mettevo qua e qua sotto facevo il metodo cioè qui sotto facevo il metodo sì ma no dichiarazione di metodo in mezzo al codice terribile proprio inguardabile allora mettiamolo in fondo ah non puoi mettere in fondo non puoi mettere in fondo esatto quindi qua otteniamo i due i due quantità quindi get albums artist ma è quando dentro il parentesi che non gli piace adesso ci cambio quello che devo fare è a 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 ok ok adesso direi che questo commentone qua possiamo togliere tutto perché l'hai appena usato se è a posto quindi faccio if a a a album maggiore di maggiore uguale se sono uguali sono entrambe giuste quindi fai maggiore a due albums solution equal zero no equal zero Qui faccio Solution Equal 1 Else Solution Equal 2 Allora c'è un modo per scrivere questo if in una riga sola Qua Come si faceva? X If No non c'è l'operatore Punto di domande in python Vabbè questo Ah perché L'else va messo Non è proprio la discomprehension Fai X if something else Something else Ah ok Quindi 1 if A1 albums Maggiore di A2 albums Else 2 Yes Perfetto Ok 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 Quindi adesso sai che la soluzione è questa È una o quell'altra Confrontare valore Trovare risposta Giusta Aspetta questo va messo Ok Adesso Confrontare risposta giusta con quella dell'utente If Solution Equal equal User answer Print Correct Correct Se sono uguali i chat è un non problema Perché la domanda è Chi ha pubblicato più album Quindi se Se uno è maggiore di due Allora Cioè se la risposta è uno è maggiore di due Allora vince Se no è l'altro Proviamolo Allora 1 No Correct Michael Jackson Ok Riprova Vero Andiamo a vedere Andiamo a vedere che sia giusto Nei dati Rolling Stones No No Devi aprirti la mano Eh Vorrei iniziare a studiare Gli artist ID non sono il numero di album Le aprite gli URL a mano Che correttina Che correttina Giappabombe 25 video lezioni Che idiota Ci sono sponsorali Che tu sappia Che sia corretto Grazie E Sì è giusto È giusto E grazie project per gli 8 Grazie Marti per i 4 Procedendo Sì E qui siamo Allora considera che Qui vuoi Scrivere poi una stringa Che finisce con Ehm Con Vuoi andare avanti Quindi io ti Ti faccio vedere questo piccolo trick Guarda eh Pi Ehm Sol Sol Feedback Uguale Correct If Questo Else Not Correct Così Poi fai Sol Feedback Più Uguale Ehm Facciamo una Una stampa Un po' così Tipo As Albums While As Albums Poi Si può fare Così Poi Così però Eh Si potrebbe fare così Se uno volesse Certo Non è nell'homework No però Dato che siamo qua Ha uno albums Ha due albums E poi Il Le tue cose Sono Two artists Di zero Two artists Di uno Così Così hai un feedback Un po' più carino E poi Alla fine Ci aggiungi anche Wanna Continue E questa roba qua Finisce in un input No? Che è l'input Di Wanna Continue C'è questo che Vediamo un po' Se funziona Sta roba Ok Ok Buona Continuo Bene Poi un altro Piccolo Trickettino È di andare a capo Dopo gli input Perché sono brutti Brutti Da vedere così Non ho il backslash Ma lo fai tu Dove sei? Ah qui? 22 Questo O questo Grazie Quasi Così E poi Anche qua Forse c'ho All backslash Ok Vediamo così Ok Sì Ovviamente c'è un problema Di Vabbè Vorrei dire Merle and Sons Hanno fatto più album Di Michael Jackson Eh Sì Quindi Giusto Bello Vediamo se ci escono E Va bene Quindi a questo punto Devi soltanto processare L'input qua dentro Cioè l'output di questa Che decide Se ricominciare da capo Oppure no If E Allora qua La cosa Ah lo so Lo so Lo so While Dovrò prima Mettere tutto questo Dentro un while E gli dirò While Prima di tutto Control Metto come nulla Come Come yes While Can't Equal Y Perché gli ho messo Y e N Come uniche opzioni Sì Qua Y Lo trana tutto Altrimenti no Ok Perfetto Fai così Però dobbiamo togliere N Se no dobbiamo contare Se N Stop E se no Hai inserito un'altra cosa Quindi Se dice yes Andiamo avanti Se no Ciao Se no Se non risponde nulla Se non risponde nulla Continuiamo Cioè no Stoppiamo Esatto Cioè non si ferma Non fa nulla No finisce il programma Arrivederci Eh ma se Se l'unica opzione è yes Qual è il controllo di yes Se scrivi Lui chiude Ok Ok Comunque quello che Esattamente quello che hai detto Ok Abbettino Tutto questo Sì Anche While Com'è che l'hai chiamata Const Sì chiamiamola continue Ok Si diventava così Ah no continue Non si può fare Keep asking Che ne so Wow Così E poi ci manca solo Allora Manca solo l'inizializzazione Voilà Ovviamente Possiamo fare una piccola cosettina Un upper qua Così se lo mette minuscolo Funziona ma Non è mai interessante Questa roba Cioè è giusto per darvi Un contesto realistico Ma Ah Indentation level Ecco qua Perché sono io Che sicuramente Ho messo qualche Carattere che non dovevo mettere Ma chissà dov'è Jason Lod Artist No Questo Ho capito No In realtà no What Andava bene Ma guarda Facciamo così Facciamo un Tornare indietro Così Poi Tabali giusti tu Ah Eh così Ok Ecco una cosa che ha detto qualcuno in chat Giusta È Non Non apriamo il file ogni volta No È sempre lo stesso Ok Quindi apriamolo qua fuori Vero E poi E poi Tanto dobbiamo solo fare l'estrazione Una volta Ok Ok Quindi questa adesso torna indietro di uno Perfetto Ok Vai Mina o i muse I direi muse Not correct Ah 94 album Mina Va bene Va bene Continuiamo No Ok Rivai 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 Cioè Rifai partire il programma Vediamo se funziona Lo yes Gany Michael Jackson Dai Not correct No Non mi sembra che stia funzionando molto bene Perché Boh Se me Hai fatto qualcosa tu qua Colpa mia adesso Eh sì Se me qua C'è qualcosa di sbagliato Allora I dati ragazzi Sono quelli di Deezer Quindi ovviamente Che siano giusti o sbagliati Boh Considererai In quante compilation appare Non è che sono album album Ok Solution 1 If albums 1 E maggiori di albums 2 Otherwise 2 Solution correct If solution is equally equal to solution User answer That's not correct Eh mi sembra corretto Ma allora dov'è il problema Ma scusami se mi dice Controli tipi di Ah La noticina che mi ero fatta qua No Scusami è giusto per testare Se io faccio y Poi faccio 1 Poi y Poi faccio 2 Poi y Poi faccio 1 Poi y Poi faccio 2 Y 2 Y 2 Ho sempre Non corretto Cosa hai fatto Che vuoi da me Sei tu che devi capire perché non va Sempre Sono sempre non corretto Siamo una cosa di integers e string Cioè Allora La cosa che mi dà Deezer Sono integers La Eh quello che mi avevo scritto all'inizio Quello che avevo scritto all'inizio Quindi l'input Devo cambiarlo Ma vedi che me l'avevo anche scritta Vabbè Non è il caso di essere così triste Basta fixare il bug È normale Ma perché Cioè Lo sapevo che avrei avuto questo problema Eh Ranna Chi è Mina e Gali Mina Cosa hai fatto Non ho fatto niente Tra l'altro Posso dirti di più C'è anche questo problema Vai Perché Ma leggi Leggi Non è andare a caso Ho capito che sei a fine energia Ma devi solo fixare una cosettina Ho fixato Poi Ok Posso? Sì Ah ho sbagliato Scusami Devo far ripartire È sbagliato Non devi mettere P Eh Eh no Sì ma che errore è questo Non dice niente Invaluate literal for int Perché lì abbiamo sbagliato qualcosa If user answer is not in 1,2 Ultimo posto in terza fila Eh E perché non hai risato quell'errore? Allora qua Devi o catturare Devi per forza catturare l'errore Ok Devi mettere questa user In una try catch Ok Quindi fai try Sì vabbè Java Try Perché sai che questa roba qua Può dare Ehm Un errore Una try except Ok Se da questo errore qua Vuol dire che non è parsificabile Come Ehm Uno O come due Quindi semplicemente Se ciò accade Puoi fare print Puoi fare in realtà la stessa cosa Ma quantomeno l'exception La sovrascriviamo Ok Ma Io mi ricordo un momento Dove ho detto Ma Dovrei fare il catch Con il try E tu mi hai detto No Sì perché io pensavo Che la gestissi in un altro modo Ma comunque così va bene Puoi anche non fa Guarda Ti spiego Il motivo per cui non pensavo Ti Ti sarebbe servito Era questo Che se No scam niente Che se anziché Pippo riot Fare questo Pippo Anziché fare questo Ok Lo fai qua Cioè anziché convertire Questo in intero Converti Questi così Che fa un po' schifo ma Ehm Dovrebbe andare bene Ok Da ben con User Quando ci mettiamo A programmare in dos Sta roba Si sputtana sempre Puoi tabbarlo tu questo Sì No Non è un po' sbagliato Allora Chi ha pubblicato di più? Diciamo I rolling stones Risposto a una certa Va bene Va bene Perfetto E' un test Vai Michael Jax A quanto pare Ha pubblicato di più Wall Street Taser Vuoi continuare? Sì Y Ehm Vogliamo continuare? Sì Ah Eh Vai No Ah 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 Ok Vogliamo continuare? Adesso qua se io scrivo Questa roba Quanto meno dice Risposta non accettata Poi sì Si potrebbe ricatturare Ehm Quindi fare Mettere tutto in un else Bla 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 E poi dire di Keep asking Ma diciamo che Così Copre un po' tutti i casi Non ti chiede Schi Peppo Riot Si vede Sei proprio arrivata Alla stanchezza finale Comunque La questione è risolta Adesso Non facciamo più niente Ma Dato che questa cosa Che abbiamo visto Dei numeri degli album Non è proprio splendida Ehm Io come compito a casa Vi ho lasciato Quello di Ehm Provare a disegnare Lo stato della memoria Di questo semplicissimo codice Ok Proprio disegnarlo a mano E poi Ehm Poco random Nomi che l'estrazione Tira sempre fuori Gli stessi nomi E cioè Sono tipo 5 Non è che E poi Off live Potete aumentare Il numero degli artisti Utilizzando il mio scriptino E mettendoli qua dentro Sono sempre loro Ok E Ehm Potete Anziché Utilizzare Il campo Ehm Relativo A quanti album Ho fatto Quanti Ehm Quanti fan Hanno Number of fans Che è che sempre Nella API Di Di Deiser Quindi Molto Un cambiamento Veramente molto semplice Compiti che si fanno Questa volta In veramente Dieci minuti Ok Ehm Ehm Che fai quella faccia Dai Dimmi al volo Come si fa A fare questi cambiamenti Non stavi neanche ascoltando Per questo che non mi sai rispondere Niente Ehm Vabbè Ehm Scrive Pepo Riot Proprio non mi ascolta Dopo un po' Non mi ascolta più Hai letto i commenti Dall'episodio precedente C'è gente che dice Che sei maleducata Per comportarti così Sei serio? E certo Io parlo Tu ridi Non lo faccio opposto È che veramente Il cervello Che non Non ce la fa più No Youtube Non lo ti amo Youtube tutto Youtube tutto Riffetti Sto attenta No Tanto lo devi fare tu Ehm Devi capire che fai pomodori Da 45 minuti E non resiste due ore Eh l'ho capito Ma qua abbiamo fatto la pausa It's ok G It's ok You did very good Hai risolto il problema Molto bene Poi Il problema è che Quando arrivi stanca Proprio Completamente Inadeguata Non ce la faccio Comunque Per questo compito Ti do 29 Grazie Quello che ho fatto In live O questo? Questo qua Grazie L'altro Non l'abbiamo corretto Ma c'è La soluzione Lo vedremo La prossima volta I guess Insieme alla soluzione Di queste Che sono molto simili In realtà Sei d'accordo con me? Sì Non stavi ascoltando È incredibile Ma sei disgustosa Ma cazzo Ho detto una fra Non parlavo neanche Di codice Ma c'è pera Che risposta è? C'è pera La vedi? La vedi? No Adesso la guardo E vabbè C'è pera Che fa Le cose a shin Ma come si fa? Scusi It's ok It's ok Terminiamo Su questa nota Spiacevole L'episodio No 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 Ragazzi Dovete capire Che la signorina Study time È così Lei si impegna Ma quando arriva La soglia Ma proprio Non è che Vedete che non ascolta Neanche adesso Sta ascoltando Forse non vi è chiaro Non lo faccio a posto Lei se ha fame Se è stanca Ciao al cazzo Ciao a tutti Sono come i bambini Se ho fame Ho sonno Boh Chiusa Chiusa la discussione Quindi chiudiamo Anche qua questo episodio Oggi abbiamo visto Delle cose molto importanti Sulla memoria Abbiamo fatto questo compito Che vi insegna Sempre di più A lavorare con le API E Giulia Tu cosa ne pensi Dato che stai ascoltando Mi piacciono moltissimo Le API Va bene Va bene Un saluto A tutto il mondo Di YouTube E un bacio Non odiatemi Ciao a tutti Grazie a tutti.